Lo scrive il presidente della regione Michele Emiliano nella relazione che accompagna l'ordinanza con la quale prevede la didattica digitale integrata per le scuole pugliesi da mercoledì. Nella nostra regione la curva epidemica mostra ancora un andamento in salita, incremento che riguarda tutte le fasce d'età ad eccezione di quella compresa tra 0 e 5 anni. Numeri da zona rossa che resterà tale almeno per un'altra settimana a partire da domani se non addirittura sino al prossimo 19 aprile. Piccoli segnali di un'inversione di tendenza arrivano solo dalle terapie intensive. Il report dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, alla giornata di domenica fa registrare un decremento di un punto percentuale rispetto all'ultima rilevazione. L'occupazione dei posti letto però è ancora molto alta perché siamo al 43%, 13 punti oltre la soglia critica fissata dal Ministero della Salute. E 10 punti sopra quella soglia critica c'è anche il tasso di occupazione dei posti letto in area medica. Che gli ospedali siano sotto pressione lo dicono i numeri, il 50% dei posti letto è occupato dai pazienti covid e lo confermano i racconti di chi è in prima linea in questa pandemia. Ormai in Puglia la maggior parte delle positività al covid sono legate alla variante inglese presente nel 93% dei casi accertati. Grazie. Grazie.